Di come oggi sono particolarmente emozionante perché vedo Franco in una buona posizione, Franco Pellizzotti è un uomo nostro, si sente più l'anno e come tale mi batte un po' il cuore. Possiamo dire che tutti gli uomini vostri, non soltanto Pellizzotti che sta affettando, ma tutti gli uomini vostri sono in strada, peraltro c'è un esercito di volontari. I nostri volontari sono la vera maglia rosa di questa situazione, sono straordinari e io non posso fare altro che ringraziarli di cuore tutti, 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 tutti. Vi vedrete poi sul cordone umano quando saranno bravi e quanto si vuole. Intanto il terzetto con Pellizzotti ha un vantaggio di un minuto sul gruppo maglia rosa. Parlo del gruppetto Pellizzotti.